Oggi la zootecnia in regione toscana è davvero sotto attacco, sotto attacco dalle intemperie, da insomma gli animali selvatici, i lupi che adesso veramente attaccano a pochi centinaia di metri dalle abitazioni. Come si possono sostenere i nostri allevatori? Abbiamo fatto in questa legislatura scelte importanti, la legge obiettivo per quello che riguarda gli ungulati, la sollecitazione che abbiamo fatto al Ministro Galletti, al Ministro Martina relativamente al piano lupo. Noi dobbiamo continuare a insistere su questa strada perché sappiamo che è la strada giusta e del resto salvaguardare la zootecnia vuol dire mantenere il mondo allevatoriale nelle nostre zone di collina e di montagna che hanno bisogno della presenza dell'uomo, che hanno bisogno di non essere abbandonate e quindi noi dobbiamo in tutte le maniere dare un sostegno a questo mondo allevatoriale che ne ha tanto bisogno, ma che peraltro sta producendo anche qua, diciamo così, produzioni di grande pregio e di grande qualità. Ci sono, Assessore, misure un pochino più incisive perché qui si rischia l'attacco all'uomo? Noi come Toscana abbiamo fatto intanto monitoraggi, abbiamo lavorato su opere di prevenzione, stiamo portando avanti anche se con difficoltà l'aspetto delle catture e abbiamo chiesto come Regione Toscana, la prima in Italia, anche in applicazione della legge Habitat il prelievo selettivo perché effettivamente la presenza dei predatori è eccessiva. Come sapete siamo anche sotto attacco dalla parte di un mondo che è il mondo animalista e ambientalista che ritiene eccessive queste nostre richieste. Noi riteniamo che la presenza del lupo e degli ibridi in questa regione sia veramente fuori controllo. C'è un'emergenza, sull'emergenza dobbiamo intervenire, non è un caso che negli ultimi tre anni abbiamo avuto qualche cosa come oltre 1500 attacchi da predazione. Il mondo allevatoriale è in ginocchio e noi proviamo a dargli una mano.